Salve a tutti amici di CryptoJam e benvenuti a un nuovo video. Oggi andiamo a vedere una notizia importantissima. HSBC, una delle più grandi banche al mondo, ha appena approvato diciamo il suo Bitcoin ATF, ci sono in verità 3 ATF, tra cui anche quello di Ethereum, sono stati approvati e adesso sono sul Hong Kong Exchange, quindi in questo momento questa è una notizia assolutamente importante perché vediamo molte istituzioni che stanno diciamo andando su questa strada degli ATF, degli spot ATF e anche del custody, quindi le banche cerchiano di offrire più personal custody possibili, vediamo anche questi ATF che vengono fuori e ovviamente questo aiuterà molto l'adozione dal punto di vista degli investimenti, ora dirò la mia visione dal punto di vista sia bullish che bearge della situazione, se questa cosa veramente potrebbe aiutare Bitcoin a uscire dal bear market oppure questa cosa comunque a lungo andare aiuterà ma a breve potrebbe ancora non essere così, non impattare così tanto il mercato, lo vedremo anche sul chart, vedremo alcune analisi che abbiamo seguito ormai da mesi in questo momento, vedremo alcune posizioni che abbiamo preso su alcune altcoin ma soprattutto ci concentriamo su Bitcoin, allora parliamo intanto di quello che questa notizia sicuramente aiuta, prima di tutto aiuta le persone che già erano insicure di entrare a Bitcoin, ovviamente un po' di FOMO lo porterà sicuramente come abbiamo già visto successo con BlackRock, però a noi non interessa il FOMO, a noi interessa la realtà dei fatti, allora sicuramente porterà un sacco di soldi, di istituzioni, gente che comunque non investe in Bitcoin come facciamo noi, che ovviamente aspetta che ci siano regolamentazioni per investire, che ci siano banche che offrono questo prodotto e tutto quello che ovviamente ne deriva, quindi sicuramente un bel po' di soldi cominceranno a entrare nelle crypto nei prossimi anni grazie a questi ETF, ovviamente non sono cose che domani mattina già portano trilioni, sono cose che nel giro di anni, parliamo di 3, 4, 5 anni, cominceranno a portare a investitori, ovviamente rimarrà sempre un asset volatile, comunque la sua market cap è molto piccola, quindi ovviamente molti investitori verranno a bordo probabilmente quando diventerà un po' più stabile, quindi molti investitori preferiscono alcuni investimenti che sono più stabili di altri, quindi non solo perché esiste l'ETF tutti investiranno, non funziona così, solitamente è un asset class che viene offerto, come viene offerto per esempio stock o materia prima o quello che è, e poi ci sono vari investitori che si interessano e vengono, quindi sicuramente ci sarà un flusso di denaro, quello che vogliamo è anche un'adozione, è un mercato meno speculativo, un mercato meno pieno di scam, un mercato meno di truffe, così che dai uscire a far sì che bitcoin diventi anche un asset visto dal grande investitore con molto più interesse, ok? Perché molti ancora parlano di bitcoin come uno scam, come un pump and dump, come chi ci sta dietro non si sa chi è, gente comunque che ha per esempio exchange che non sono regolamentati, che tradano bitcoin, tutte queste cose che ovviamente allontanano alcuni investitori, quindi a lungo lungo termine secondo me questa è un'ottima cosa perché ci fa vedere che comunque non moriranno queste cose, la gente comunque ha molto paura in questo momento della SEC, sì, ho già parlato del fatto che la SEC, anche se loro dicono che è una security negli Stati Uniti, non vuol dire che la fanno fuori, se dicono che è una security, bene, l'unica cosa ci sarà un passaggio di mano tra chi ha la licenza per digital security e chi non ha la licenza, quindi faranno fuori gente come Binance e altri exchange che magari non li vanno a genio e che non lavorano con loro, quindi però a livello di volume di liquidità continuano ad essere tradate, ovviamente gli asset che mi interessano di più sono quelli più attaccati dalla SEC come Ada, Matic, Bitcoin, Ethereum, cioè Bitcoin, no scusate, Ethereum, perché questi qua praticamente sono quelli che secondo me sono più sotto i riflettori che interessano alle istituzioni detenerne una parte e avere i loro amici dentro, ok? Quindi sicuramente questi sono gli asset che interessano. Quindi lungo andare bullish, estremamente bullish il fatto di tutti questi ETF che entrano, a breve termine potrebbe esserci un pump and dump, quindi non dico che da qui adesso vado Demun, quello che tutta la gente pensa. Il fatto è questo, bisogna anche pensare a un fattore di liquidità sul mercato. Cosa vuol dire? Vi faccio l'esempio di Apple, ok? Allora, Apple per esempio, intanto vediamo qua Ethereum che noi siamo long su Ethereum da un po' e secondo me Ethereum sta per fare un bel pump su questi livelli dei Fibonacci, però andiamo a vedere. Comunque, parliamo di, stavamo parlando di liquidità sul mercato, allora parliamo di liquidità sul mercato in termini di soldi che girano. Vi faccio l'esempio di un'azienda famosa come Amazon per esempio, ok? Allora, Amazon è un ottimo investimento, sappiamo che è un'ottima azienda, tutto quello che vuoi, la offrono sugli exchange, viene tradata, tutto quanto, ok? Amazon comunque ha un inflow, un outflow di denaro che derivano dal mercato, quindi per esempio se la gente ricca gira molti soldi sul mercato, ci saranno più investitori che investono nei mercati, tra cui Amazon e altre cose, ok? Se invece la gente si impoverisce, i business continuano a ridurre, diciamo, la loro morsa, diciamo, ci sono sempre meno soldi in giro, che Amazon sia una buona azienda o non sia una buona azienda, ovviamente conterà poco, nel senso comunque la liquidità sul mercato, quella conta alla fine dei tempi, ok? Quindi se parliamo di criptovalute, la stessa cosa va applicata, ok? Le criptovalute possono avere tutte le buone notizie del mondo che vogliono, il fattore però cos'è? Noi vogliamo vedere come funziona, come è la liquidità e come ovviamente anche i tassi di interesse, perché i tassi di interesse è il problema che schiacciano l'economia, schiacciando l'economia ovviamente impoverisce la gente, quindi c'è sempre meno soldi per asset speculativi, ok? Quindi questo è il fatto. Poi so già che la gente salterà nei commenti e dirà, sì ma Bitcoin è un asset contro l'inflazione come l'oro, non è così, perché in verità l'oro non si muove del 20-30% in un giorno, come fa Bitcoin, quindi finché Bitcoin si muove a quel beta non sarà mai considerato un asset di rifugio, nessuno mette i suoi milioni in un asset che si fa un 20-30% in un giorno, ok? L'oro si muove ma non ha questo beta, quindi è molto più sicuro per gli investitori per combattere l'inflazione. Ho già fatto l'esempio, l'inflazione è del 10%, 5% quello che volete, Bitcoin si fa un 5-6% su e giù in un giorno, quindi è un asset speculativo e non un asset per proteggersi dall'inflazione. Potrebbe diventarlo in futuro? Sì, probabilmente quando arriverà a 3-4-5 trilioni di market cap e comincerà a tradare con un beta diverso, probabilmente diventerà un oro digitale come tutti vogliono, ovviamente non è questo il caso, quindi prima che saltate nei commenti, questa è la verità. Quindi in questo momento le criptovalute funzionano nello stesso modo. Se c'è liquidità sul mercato, se ci sono investitori, per esempio anche gli investitori, per esempio anche gli investitori non è che possono semplicemente investire in Bitcoin, devono avere diverse locazioni, quindi devono sedersi a un tavolo e dire ok gli hedge fund, ok allochiamo i riscassi e tot, però hanno anche delle regole, devono bilanciare il loro portfolio tra cose rischiose e meno rischiose, i beta ovviamente alcuni bilanciano i portfolio con un beta alto, un beta basso, quindi non così come la gente pensa, ok arriveranno 7, 8, 10 trilioni dentro Bitcoin subito, non funziona così, vi sto dicendo la verità, ok voglio essere realistico, io sono long su un sacco di cripto in questo momento, anzi sono nella posizione proprio che avrei voluto, quella in cui se va su, sono posizionato da Dio, se va giù c'ho cash da parte, prendo profitto e continuo a comprare, quindi questo è quello che io volevo arrivare, questo su cui ho lavorato per l'ultimo anno e mezzo, arrivare a una posizione comoda in cui c'ho abbastanza una posizione aperta in long, in caso veramente magari ho torto, magari da qui comincia il bull market, anche se comunque a livello fondamentale non è così ancora, però se dovessi cominciare il bull market benissimo sono posizionato, se invece continua il bear market e Bitcoin torna giù, come da analisi che abbiamo fatto, continuo a comprare perché sono in cash e ho preso profitto da alcune altcoin che hanno fatto 20, 30, 50, 70, 80% e quindi sto facendo girare liquidità, questa è la cosa importante, quindi andiamo a vedere in questo momento, intanto faccio un'analisi veloce di Ethereum, visto che ce l'abbiamo davanti, sta pompando e Ethereum è un po' che dico che questo sta per andare balistico, comunque andiamo a vedere, questo è il mio box di Wyckoff, come vedete in questo momento è andato su 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 in questa zona, quindi la prima zona che sfonda sarà veramente, manderà questa to the moon, quindi quello che vedo io in questo momento consolidamento bullish, questa consolidamento super bullish, ok, se rompe di basso va benissimo può ancora ritestare qui, però questa a questo momento ha le probabilità che continuano a pampare verso l'alto, quindi cosa che io guardo in questo caso sono la dominance, ok, di Ethereum che vedo che la dominance ha cominciato ad avere degli spike, vedete qui io faccio anche l'analisi sulla dominance perché la dominance va analizzata come qualunque altro asset, ok, quindi la dominance è su una trendline molto importante, ovviamente se rompe questa trendline non è buono, però ovviamente come vedete sta rispettando la trendline, Ethereum Bitcoin dominance come vedete è i minimi, quindi è un punto per comprare, avete fatto un dip però sono confortevole a comprare qua, Bitcoin dominance è ancora molto forte, quindi lì ancora non ci scappa, Bitcoin appoggia ovviamente la price action, come vedete Bitcoin rimane super bullish in questo momento, anche qua un consolidamento molto bullish come vediamo in questa zona, però a grandi linee io quello che mi aspetto succeda, dopo il dump in questa zona, qui dove abbiamo comprato, poi ragazzi io registro tutto quello che faccio dentro la community e c'è gente che segue, quindi tutto quello che dico qua sono cose che potete andare indietro nei video oppure entrare nel discord e vedere, sono tutte cose che abbiamo fatto insieme, quindi ha comprato qui Bitcoin, ok, dai 25 qui abbiamo scaricato le posizioni, quindi sell 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 sell, abbiamo cominciato ad aggiungere short, aggiungi short, aggiungi short, aggiungi short, siamo scesi qua giù, a questo dip, a questa mossa qui, avevo fatto anche un video, questa è una presa di liquidità, come vedete è andata sotto, ok, questa è una presa di liquidità andata sotto la zona di resistenza, di supporto ed è salita su, questa è una presa di liquidità e allora ho detto chiudiamo gli short, abbiamo chiuso gli short in questa zona, appena ho visto lo spike con una zona di accumulo ho detto qua comincio dei long, ok, ci siamo preparati sull'all coin che continuavano a scendere e siamo andati long su Bitcoin, come vedete è andato balistico Bitcoin, ok, il mio target era quello della wage, qual è il target della wage? questo è il target della wage, ok, quindi come vedete appena arrivato al target della wage c'è stato un mega sell in questa zona qui, come vedete, questo picco, quello che mi aspetto io possa succedere, ok, anche dal punto di vista di analisi dei fibonacci e tutto quanto, quindi come vedete in questo momento le analisi su Bitcoin stanno funzionando parecchio bene, più che sugli indici, quindi è una cosa abbastanza buona, se andiamo a vedere qui, in questa zona, zona degli 1.27 e zona degli 1.61, questa è la mia zona che secondo me è più ambita, in questa zona qui dove abbiamo anche la zona di resistenza, quindi zona 32.5, molto probabile che Bitcoin possa arrivare a 32.5 e se devo proprio shortarlo o iniziare uno short come in questa zona, questo sarà il mio punto probabilmente d'entrata, quindi voglio vedere come si rivela, perché da qui va fuori dal channel, come è andato fuori dal channel qua e vi darà un'opportunità di essere overbought, ok, quindi può continuare ad andare su, però sicuramente se rompe il channel è overbought e quindi, ma poi potrebbe tornare giù, quindi voglio sfruttare la volatilità sia up che down, ok, questo non è per chi investe, per chi investe invece quello che volete vedere voi è una rottura della struttura di questa qui, ok, e che torni nella zona dei 20, che è ancora possibile perché tecnicamente Bitcoin sta facendo un double top, al massimo va un po' più su ma comunque rimane un double top anche sul settimanale, se lo andiamo a vedere sul settimanale, questo è già successo parecchie volte, posso farvi vedere tipo una 500 esempi di questi double top, come qua per esempio, come vedete, qua per esempio va su, poi arriva in alto, va ancora più su e va giù, ok, double top qua è la stessa cosa, come vedete è andato su, giù, respinta, potrebbe andare più su e poi fare un double top a ribasso, quindi in verità qua ancora non c'è niente di, non si può dire che è fuori dal pericolo, quindi la cosa che io sto seguendo in questo momento qual è? Se per essere bullish bisogna chiudere sopra i 25, questa zona qui, quindi bisogna chiudere sopra il primo livello di ritracciamenti dei Fibonacci che è il 0.38, perché se richiudi sopra questo non che esci dal bear market, però questi sono i livelli di ritracciamento, se la candela chiude qui e si stabilizza, ok, quindi sopra la zona dei 25.000, come vediamo target sono 42 e poi addirittura 48.50, quindi questo è dove probabilmente potremo avere un pullback aggressivo, non dico che da qua torna giù ai minimi, però da qui solitamente vediamo dei pullback oppure una struttura a cambiare, ok, quindi niente sale così, allora ragazzi vi sto dicendo quello che ho fatto anche in questa zona, ho tradito bitcoin, ho comprato, ho venduto nello stesso modo, quando ho visto il double top qui e ha rotto, sono andato fuori dal mercato, ho cominciato a ricomprare più in basso, quindi quello che faccio qua è la stessa cosa che ho fatto qui, ok, chi compra che dice hodl, 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 non capisce niente perché ovviamente chi ha fatto hodl anche qui, per esempio, non ha mai venduto, praticamente se tu aggiusti sull'inflazione sei in perdita, ok, se tu fai adjustment for inflation sei in perdita, quindi la verità qual è? Che voi dovete sfruttare diciamo i movimenti di mercato, se avete the bitcoin per esempio, quando chi è entrato qui nella zona, ok, e ha visto questo, ok, oppure è stato fortunato da vedere questa cosa qui, ok, ovviamente hold, 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 no, devi cominciare a pensare a una strategia di take profit, perché? Perché vuoi aspettare un pullback, magari entrare oppure comunque avere un prezzo migliore, ovviamente siamo logici, se io per qua per esempio comincio a vedere una roba del genere, la prima cosa che penso è, devo cominciare a prendere a profitto, perché questo poi va giù, ok, quindi la cosa che mi preoccupa è che in questo momento abbiamo un respiro dal bottom, un respiro dal bottom, ma non abbiamo nessuna conferma che questo è ancora al bottom, ok, dobbiamo uscire, devo cominciare a prendere fibonacci uno dietro l'altro, ovviamente l'uscita dal bear market, so che è lontano per dire uscire dal bear market, però per uscire dal bear market completamente bisogna rompere al di sopra dei 0,61, ok, perché ovviamente bear market, retracement possono arrivare anche qua su e poi andare verso il basso, ok, e questo ne avevo già parlato in passato, che anche bitcoin arrivando qui non sarebbe comunque risultato bullish in questa zona, possiamo anche andare a fare un fibonacci retracement a questo high, perché comunque abbiamo uno swing, quindi in verità noi abbiamo uno o due swing in questa zona, quindi anche qua per esempio possiamo già dare dei numeri, come vedete 0,5, questa è la zona di cui ho parlato prima, nella zona dei 32.000, quindi 0,5 e al di sopra abbiamo la zona dei 35,5, quindi come vedete deve chiudere qua su per prendere prezzi più alti, ok, quindi sicuramente già se chiude sopra i 35, le possibilità di upside e che questo sia al bottom sono molto più alti che se invece rimane sotto questo livello, ok, quindi può arrivare a 32, 34, però se il settimanale rimane sotto i 35 e non chiude mai sopra, 35,5 circa, rimaniamo in bear area, ok, bear zona, l'ho già fatto vedere per esempio su altri asset, come vedete in questa zona avevo fatto vedere, faccio vedere questo perché ovviamente quello che conosco meglio l'ho già analizzato, però in verità tutti gli asset ce ne sono almeno altri 20 che ho visto che hanno questa cosa, comunque uno degli asset che mi piace confrontare spesso con bitcoin, come sapete è il, mettiamolo sul settimanale se non ci arriviamo mai, nella dad con bubble quello di per esempio amazon, che se vi faccio vedere il chart, vedete il chart qua, sono simili, ok, sembra quasi lo stesso asset, ok, come vedete sono molto simili gli asset, ok, sono molto simili e come vedete anche qui c'è avuto dei pump che praticamente facevano il 84%, qua per esempio ha avuto un pump del 118%, qua ha avuto un pump del 125%, però era un bear market pump, ok, quindi la stessa cosa che dico qua, è vero che qua ha fatto un 100%, per esempio, però vedete qua per esempio durante il bear market questo ne ha fatti estremamente di più, ok, quindi ne ha fatti molto di più, poi è arrivato al bottom, dove è cominciato diciamo il pump, ok, in beta il bottom di bitcoin, dove è cominciato il pump sarebbe quest'area, 10.000, dai 10.000 ai 9, 8, questa zona qui, 9 e 10, ed è per quello che molti puntano i 10, ok, quindi potrebbe essere che bitcoin, questo per chi cerca prezzi più bassi, possa andare qua così e tornare giù e poi andare a piazzarsi piano piano man mano che c'è una morsa sull'economia, perché ovviamente c'è molta liquidità adesso sul mercato, più di quello della FED pensava, può essere che bitcoin per ora, visto che c'è tanta liquidità, vada su ancora e poi cominci a scendere piano piano, piano piano, piano piano, man mano che l'economia diventa sempre più pressata dal high trade e dagli interessi, visto che l'intero mondo sta andando in high, sta facendo il high trade, l'intero mondo, non solo gli Stati Uniti, l'intero mondo sta facendo high trade, quindi può essere, assolutamente può essere, quindi assolutamente attenzione, usate una strategia di entrata, di uscita intelligente, la cosa migliore di questi asset è il fatto che hanno un beta talmente alto che fate soldi sia su che giù e ci avete sempre l'opportunità di ricomprarli sui pump, quindi chi pensa che non tornerà mai qui potrebbe essere smentito nel giro di pochi mesi o poche settimane, quindi non aspettate voi mai che da qui questo vada su, arriva un milione come molta gente dice, quindi questa è la mia visione completa sul mercato per quanto riguarda bitcoin, vi ho già detto, quindi sto guardando questa zona, importantissima per me è vedere se riesce a stabilizzarsi al di sopra dei 30.000 in questo momento, come vedete ho già avuto parecchi sell abbastanza veloci, però è una zona di target, quindi è normale e anche l'estremità del channel da questo punto di vista, quindi target per me è 32.5 e da qui dovremo vedere una reazione secondo me più bearish sul prezzo a breve termine. Comunque ragazzi per il momento è tutto, spero vi sia piaciuto il video, se vi è stato utile lasciate un like, un commento e condividetelo e ci vediamo al prossimo video.